Quote societarie, tre complessi aziendali, tra cui un villaggio turistico, due fabbricati, una villa di ampie dimensioni con piscina, un terreno, sei autovetture, diverse disponibilità bancarie e finanziarie, un complesso di beni del valore di circa 25 milioni di euro che il nucleo tributario della Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato e confiscato alla cosca sia Procopio Tripodi e Gemone nell'area ionica soveratese. Un'andrangheta imprenditoriale che controlla diversi settori economici, dal vecchio business dei boschi al nuovo e più redditizio mercato del turismo, passando attraverso il sempre florido traffico di stupefacenti. Le indagini patrimoniali condotte dalle fiamme gialle su richiesta della DDA di Catanzaro hanno evidenziato una netta sproporzione tra i beni risultati nell'effettiva disponibilità rispetto ai redditi dichiarati e alle attività ufficialmente svolte. Recentemente, sempre la Guardia di Finanza di Catanzaro aveva provveduto a sequestrare nello stesso ambito beni per un valore di circa un milione e mezzo, frutto di attività estorsiva gravata dalle modalità mafiose. Grazie a tutti!